La perdita dei capelli non dovrebbe essere trattata come una malattia al primo piano, ma lo stesso può causare una paralisi nelle nostre emozioni e renderti incerto o incerta, al punto di richiudersi, evitando di socializzare con altre persone, anche ad isolarsi. La nostra società spesso tratta la perdita dei capelli in un modo negativo, trasformando questo fenomeno naturale in una grande causa di preoccupazione tra uomini e donne.